john borno ragazzi che niente è urlato e pochi cazzo no di nuovo john borno john borne benvenuti in questo nuovo video ma quanto siamo particolari diciamo particolari sono qui vicino e alla mia destra c'è gladiatore giallorosso 94 fine è durato troppo il video alla fine fine hai raggiunto la monetizzazione allora ragazzi innanzitutto john borno benvenuti in questo nuovo video e questo è un video particolarissimo perché nessuno lo fa tranne noi e questo cazzo che cazzo sta a disu questa frase guarda mi metto il deodorante adesso ma con chi sto io almeno si sente più odore buone invece che la tua puzza giornaliera di schifo no non si fa tu sei veramente una persona crudelia allora innanzitutto iscrivetevi al mio canale e poi se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale mi raccomando seguitemi dai guardate ma potete seguire una persona come questa cioè seguitela per sto video dopo per tutti gli altri iscrivetevi e venite sul mio canale allora ragazzi se lasciate io mi dovete sorprendere dovete lasciare qui sotto ma poi sto microfono di merda porca la puttana mi stai zitto ma che sta a fare vabbè sono un professionista vai oh non si fa così allora allora che tipo di video è allora questo è un video challenge indovina il risultato e i marcatori challenge cioè dovete sapere che quest'uomo che alla mia destra si ricorda tutte e sottolineo tutte e sottolineo tutta già ho sottolineato due volte tutte le partite della roma dalla stagione 2007 2008 a quella attuale tu pensa che vita di merda che fai già facciamo cagare una squadra forte che vince sempre dici a io mi ricordo di quella volta che abbia vinto una volta quando abbiamo perso 40 è fantastico ragazzi è un punch ball cioè lui prende schiaffi come se come se piovessero una resistenza come direbbe taunos sono ineluttabile sconfitta della roma me la metto e me la immagazzino dentro la memoria e ormai io posso sopportare qualsiasi cosa che si posso morire allora non per questa squadra allora allora 5000 mi piace qui sotto e io vi porto subito il secondo episodio nel quale lui proverà a battere il suo record che cosa vuol dire questo che cosa vuol dire questo oggi lui andrà ad indovinare risultato esatto e marcatore ma avrà esattamente tre minuti cioè io farò partire il timer e gli dirò tipo non rispondere roma vabbè cazzo della stagione 2017 2018 lui mi dovrà dire ah mi ha preso un crampo che dolore atroce ah 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 non sto scherzando taglia tutto oddio mi sono fatto malissimo oddio ho visto le stelle continua a girare continua a girare ma seriamente si oddio mi fa malissimo questo taglio a regà a regà questo uomo qui alla mia destra e indovinerà tutti i risultati tipo dico roma cazzo 2016 2017 lui deve dominare risultato e marcatore io farò partire il timer e lui avrà esattamente tre minuti di tempo quando il timer scoccherà lui praticamente dovrà fermarsi e faremo il conto di quante partite ha indovinato ovviamente devo dire anche l'ultima per intero risultato e marcatore se non vale esatto la cosa fantastica è che io blocco il tempo ogni volta che tu rispondi andiamo a controllare insieme se effettivamente hai ragione quindi non è detto che tu abbia ragione cioè potresti anche avere sbagliato visto che tu hai sempre ragione visto che tu hai sempre ragione ogni partita che sbagli io ti levo 30 secondi sì perché tu non sbagli mai se tu sbagli un marcatore nostro te ne levo 20 mi raccomando ragazzi tantissimi mi piace qui sotto allora siamo pronti partiamo questo è il timer ecco siete in cazzo questo è il timer mi siete ancora peggio madonna comunque o do pulire il telefono c'è qualcosa che non va questo è il timer vabbè raga 3 minuti 3 minuti fidatevi di me tanto poi metto il timer 3 2 1 pronto avvia roma bologna 2015 2016 1 a 1 finì 1 a 1 per la roma segnò salà dopo che prendemmo tre pali segnò rossettini per il bologna nel primo tempo è vero e pareggio per la roma salà e è finita 1 a 1 quindi i dettagli promettecili almeno se no sembra che so no hai ragione hai ragione pronto? possiamo dire primo risultato 2 minuti e 48 ok 3 2 1 pronti via Cagliari-Roma stagione 2011-2012 allora finì 4 a 2 per il Cagliari segnalano per noi Borini e Quan e per loro non li ricordo tutti ma di sicuro ci fa una doppietta di Tiago Ribeiro e basta per noi allora che stagione abbiamo detto? 2011-2012 Cagliari-Roma 2011-2012 ragazzi Cagliari-Roma 4 a 2 per noi segnarono Quan e Borini ecco queste sono quelle partite che ho messo nella categoria preferite non ricordo ma non solo segna pure la doppietta di Tiago Ribeiro 2 minuti e 27 hai indovinato due partite bisogna rifar partire il tempo sei pronto? vai Roma-Samp 2008-2009 finì 2 a 0 con doppietta di Giulio Baptista punizione e tiro all'angolino allora ragazzi Roma-Samp 2 a 0 ventesimo Giulio Baptista 52esimo Giulio Baptista detto anche over home ma Giulio Baptista quando cazzo è che ha fatto doppietta nella sua vita? questo anno ha segnato un sacco di gol il primo anno poi il secondo un po' meno pronto 2 minuti e 23 Fiorentina-Roma 2011-2012 quindi 3 a 0 per loro segna sicuro ho messo pausa perché nei nostri marcatori devi nominare però ricordo che ci furono 3 espulsioni ci furono 3 espulsioni di Juan, Gago e Bojan che la prese sulla porta e per loro segna Santiago Silva su rigore Jovetic su rigore e Gamberini che a noi segnava tipo ogni 3 per 2 quindi ti dico in ordine Jovetic su rigore Gamberini e Santiago Silva su rigore allora chi ha detto che sono stati espulsi? Juan, Gago e Bojan giusto e segnarono sui Jovetic, Gamberini e Silva ragazzi è giusto è giusto ma no che sei assurdo certe scelte di partite anche tu mamma mia ho capito ho mangiato da poco ho mangiato quindi veramente arcaccio tutto quante partite abbiamo indovinato finora? 4 Roma-Palermo 2008 2009 finì 2 a 1 per noi segnarono Totti e Roma-Palermo segna 2 a 1 segna Totti mi sembra Cavani e può essere Brighi risposta definitiva ti ho messo in pausa allora Roma-Palermo 2008 2009 punto perché se non è così ti levo i 20 secondi che ti ho promesso prima ne hai preso una delle poche che non mi ricordo nulla aspetta non guardare tu non puoi guardare tanto non puoi guardare Roma 2 a 1 ha vinto col Palermo e fino a qui marcatori Totti Cavani Brighi sì 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 questa non me l'aspettavo questa ero convinto che ero sbagliata ero convinto porca puttana allora allora andiamo avanti manca un po' di 5 c'è in gioco il mio onore ragazzi riprendo Roma-Chievo della stagione 2013-2014 2013-14 Roma-Chievo ma credo che Roma-Chievo finì porca puttana 13-14 allora ricordo che l'andata vincemo 2-0 e in casa Roma-Chievo con il Chievo di santo sono partite proprio per quello l'ho fatto porca puttana c'è un flash non mi viene proprio in mente eeeh 3-2 2-0 in casa porca puttana non mi viene in mente proprio strano tra l'altro non ti viene in mente la vuoi passare? no Roma-Chievo una della se vuoi te la posso far passare porca puttana quando te la dico ti incazzerai da morire no la passo la passi quindi non perdi tempo non perdi niente una la puoi passare ora ti incazzerai da morire sappilo Roma-Chievo 1-0 è la decima 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 di fila è la decima di Garzia ma c'era Borriello vaffanculo c'era poi allo stadio ero diavolo cane io quando mi viene in mente ho detto ma che cazzo cosa sono le partite che delusione ero allo stadio io ce l'ho una volta all'anno manco come l'ho dimenticato vabbè comunque sei a 5 questa l'hai passata però ti sono rimasti solo 50 secondi una partita di merda sì ma veramente di merda e poi fu l'ultima di Borriello perché dopo non giocò più perché sennò dovevamo pagargli il bonus vabbè 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 51 secondi alla fine hai fatto 5 partite vediamo se riesci ad arrivare anche a 8 o a 7 Inter-Roma 2019-2020 2020 2020 con Fonseca allora Roma sicuramente pareggiamo perché comunque non pareggiate tante cazzo mo' sono andato nel pallone sono andato perché quindi 0 a 0 dopo il tempo controllo Inter-Roma 19-20 0 a 0 bravo sono andato nel pallone adesso perché una questa qua che non mi ricordavo che ero sicuro di ricordarmi ma ho fatto calma ne ha indovinate 6 e hai comunque ancora 25 secondi ok ok faccio ripartire il tempo e ti dico la prossima Roma Cagliari 2009-2010 quindi 2 a 1 segnarono Lazzari e doppietta di Totti pausa 19 secondi vediamo la ricorda era l'ultima in casa e segnarono loro tipo al settantesimo più o meno su punizione di Lazzari poi pareggio Totti e segnò su rigore verso l'ottantanovesimo novantesimo giustissimo Lazzari al secondo Totti al sessantaquattresimo Totti all'ottantaquattresimo dal dischetto siamo a 7 ai 19 secondi ora te ne faccio una difficile attenzione perché qui ce ne stanno tante di partite contro questa squadra Roma Udinese 2010-2011 2010-2011 finì 2 a 0 con gol di Menez e Borriello pausa 5 secondi Menez e Borriello 2 a 0 bravo 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 siamo a 8 siamo a 8 5 secondi visto che siamo a 8 io ti dico prima la partita poi metto riprendi e ovviamente tu hai solo i 5 secondi per dirmi risultati esatti marcatori io non le so prima di vederle quindi spero per te che non becchi tipo un 4 a 4 cioè nel senso o un 7 a 0 becco magari proprio con Roma Catania quel 7 a 0 famoso e lì allora riprendo Genoa-Roma 2009-2010 3 a 2 segnarono Totti e Tadei pausa 2 secondi per loro ti dico anche chi segna per loro aspetta prima finiamo un po' capotetto Roma no Genoa Roma 2009-2010 segnarono nell'ordine il primo con loro Scriscito poi pareggiò Tadei poi andavamo sul 2 a 1 con Totti con tiro deviato 2 a 2 di Zapaterso punizione e 3 a 2 di Biava Criscito Tadei Totti dal dischetto Zapater Biava come cazzo hai fatto questa eh questa qua però mi sono salvato Totti dal dischetto all'ultimo secondo Roma-Juve 2011-2012 1 a 1 segnarono beh vaffanculo non vale lo vuoi dire? sì 1 a 1 segnarono De Rossidi dopo 5 minuti e Chiellini nel secondo tempo con rigore sbagliato da Totti sarebbe potuta essere la prima e unica sconfitta della Juve in quel caso giustissimo però non vale cioè regà voglio che ci distruggia di mi piace e noi molto presto vi portiamo la rivincita e tu devi battere te stesso ci provo ci provo diciamo che non è stato facile perché la memoria mi ha tratto in inganno di solito quando sono tranquillo quando non sono sulla telecamera sono un pochino più tranquillo vediamo che il riflettore mi ha un po' ma poi soprattutto con il tempo guarda ti faccio vedere una cosa Roma Samp 2009-2010 vai a fare in cure vai a fare in cure che partita di merda ragazzi oh guarda tutti gli esempi che ho preso forse ne avevamo vinto in paio sì ho capito ma quella poi vabbè lasciamo verde quella è stata la peggiore di sempre non me la chiedere sulla prossima puntata no forse vediamo ragazzi iscrivetevi al mio canale iscrivetevi al mio canale e anche al suo canale dai iscrivetevi anche al suo canale perché è veramente bravo e ho dato una botta alla playstation penso adesso piangerò grazie per aver visto questo video regà voglio vedere tutto il vostro supporto e vi dico una cosa vi dico una cosa commentate qua sotto ovviamente lui non lo vedrà non lo vedrai te no ti giuro che ti gonfio ho commentato in tantissimi così almeno non può segnare consigliandoci dei risultati da dire perché magari se ne commentate tipo in 10.000 non è che può segnarseli tutti quindi anche se li vede non è che può ricordarseli tutti quindi mi raccomando commentate in tantissimi qua sotto iscrivetevi al canale lasciate tantissimi mi piace buon c'è la lalla e noi come sempre ci vediamo al prossimo video wow